L'estate di Arezzo invase dai piccoli supereroi su due ruote. E' tornato BimBimBici, l'evento organizzato dal Circo, l'Amici della Bici FIA Barezzo è patrocinato dal Comune con lo scopo di promuovere la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico ad Arezzo e in altre 200 città italiane. Siamo l'appuntamento principe che i bambini aspettano tutti gli anni con fermento. BimBimBici ha raggiunto la maturità, come si suol dire, qui ad Arezzo, dove siamo un po' indietro a 14esima perché la sezione di Arezzo è nata dopo la federazione nazionale. Comunque noi ci auspichiamo di avere sempre un bel seguito di bambini, genitori, nonni, zii e poterli accompagnare lungo le strade di Arezzo a fare questo bel giro che durerà un paio d'ore circa. In sezione alla propria bici piccoli hanno percorso un circuito non competitivo dedicato ai bambini fino agli 11 anni. Senti, fai il giro per la prima volta in bicicletta oppure sei venuto anche altri anni? Sì, sono venuto altri anni. Ti piace andare in bici? Sì. Questa mattina con chi andrai in bici? Con la mamma e il babbo. Senti, ti piace andare in bicicletta? Sì. È la prima volta che fai questo giro o altre volte sei venuto? Altre volte. Ti piace andare in bicicletta? Sì. Quanto? Tanto. Ti piace andare in bicicletta?